Allora Ruggero Balducci un dirigente che ci dà finalmente, ci fa scoprire, quel BA di ABBA perché ABBA sempre ABBA, ABBA abbondanza è presente, non ne possiamo più e adesso ci sta l'altro pezzo, BA come Balducci Ruggero, è un orgoglio essere uno dei responsabili della dirigenza di questa splendida società che purtroppo diciamo che è una sola carenza, gli manca la serie A2 per cui? Quest'anno abbiamo fatto veramente le cose alla grande in sede di mercato pensiamo di aver allestito una squadra con grandissime potenzialità per puntare alla A2 diretta, visto che è cambiato il regolamento ci consente nella finalissima sconto diretto di poter accedere direttamente non passare per un lungo playoff perché i playoff sono sempre una lotteria però due anni fa semifinali e l'altro anno finale quest'anno speriamo che il saldo di categoria sia arrivato al momento giusto Diceva Manfredi, fusca fusca la vota buona pensiamo di sì, anzi anche in questo la campagna acquisti è andato verso questo senso qui abbiamo preso dei giocatori, anche un giocatore Super Lega ma giocatori che sono un mix tra giocatori giovani e giocatori esperti per pensare di programmare già una parte di essi già pronti per la A2 quindi speriamo di riuscire a centrare questo obiettivo fa parte dell'ambizione ABBA, una società che vuole crescere e diventare leader nel suo settore, anche pensiamo con un po' di presunzione che lo siamo già quindi vogliamo diventarla anche nella palla a volo quindi